Adrian Natomei, bomber della Cheraschese, come sarà questa stagione? Il gruppo è rimasto la base, la base è rimasta nello scorso anno. Sappiamo le nostre qualità, sappiamo anche i nostri difetti, però penso che prima di tutto l'obiettivo è la salvezza, poi si vedrà. Cosa ti auguri a livello personale? L'anno scorso hai disputato una bella stagione. Sì, mi auguro di fare altrettanto bene, ma per quanto riguarda i gol sono sempre stato un attaccante che non ne ha fatti tantissimi, però la doppia cifra comunque è l'obiettivo, poi quello che viene dopo va bene tutto, sono più per l'obiettivo di squadra.